Non scoprirà mai. Sto nella piccola casa di mio cugino. Lui aspetta che il suo telegiornale gorgogli sullo schermo e che l'ultima notizia sulla guerra gli urli nella mente. Mentre mangiamo, insultiamo insieme il delirio di chi fa la guerra e assaporiamo le gioie di chi non la fa. Commento Non fa la guerra perché non ne ha bisogno. La mente non scoprirà mai perché la guerra è un male necessario.